Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti di nuovo ancora ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me e dalla mia felpina, con le parolacce in finlandese perché qui veramente c'è di tirare le parolacce. Allora, io dico semplicemente una cosa. Come ben sapete, io ho sempre lasciato in questo canale la maggior libertà di critica e tutta la libertà di parola possibile. Ho lasciato tutti i commenti, ripeto, molti commenti, alcuni commenti non vengono pubblicati, mi arrivano le notifiche dei commenti, ma i commenti non vengono pubblicati a causa di un problema, di un bug del sistema operativo della piattaforma di YouTube. Io non ci posso far niente. Tanti commenti, sia positivi che negativi nei miei confronti, sono stati cancellati direttamente da YouTube e non vengono pubblicati. Però c'era di una cosa. A volte mi pento di lasciare questa libertà di pens... insomma, questa libertà di espressione a certi utenti. Mi pento perché spesso e volentieri gli utenti se ne approfittano malamente. E questo qui mi fa veramente incazzare perché insomma, come dire, dico va bene, io lascio parlare tutti, lascio parlare. Ma come dire, quando se ne approfittano e sparano cavolate, insomma, diciamo che qualche volta ti fa venire voglia di fare una bella censura o di una rapida pulizia dei commenti. Ma poi mi rendo conto che perderei tempo e soprattutto verrei meno a una delle principali politiche di questo canale, ovvero sia la totale e assoluta libertà di espressione che lascio a tutti quanti, fidando nel loro buonsenso. Buonsenso che però certa gente non sa dove sta di casa. Allora, come ben sapete, l'ultimo video che ho fatto era relativo a questa monografia sul carro P40, ok? Il carro P40, il giudizio storico, tecnico e, come dire, operativo sul carro P40 è decisamente negativo. Un mezzo nato male, un mezzo nato vecchio, un mezzo che quando ne iniziò la produzione era decisamente fuori dal tempo e che non era assolutamente all'altezza delle controparti. Ripeto, fosse arrivato nel 1940 il P40, eccone qua un altro esemplare, eccone qua un altro ancora, ecco qui, nel 1940 il P40 avrebbe forse potuto fare qualche cosa ma in realtà non poteva fare mai un accidente. Ovviamente qualcuno questa cosa non l'ha digerita. Oh, tu dici cazzate. La signora Marta Gaviglio, mettiamola così, mi accusa di essermi appiattito sulle posizioni di Vlad e di Peter Ironborn che nei loro canali diciamo sono stati piuttosto critici, per usare un infemismo, nei confronti del carro P40, del P2640. Ne ha dette di tutti i colori e ha detto ah ma perché tu accusi il P40 di essere arcaico quando anche lo Sherman aveva le sospensioni a balestra. Cioè, quel bravo ragazzo di Venezia 90 si è sentito persino in dovere di fare un video in mia difesa, in mia difesa, del quale lo ringrazio caldamente di tutto cuore, nel quale ha spiegato il perché queste sono cavolate, veramente cavolate. Allora, detta così com'è, il treno di rotolamento del carro italiano pesante P2640 era arcaico perché era a carrelli e balestre. Eccone qua un esempio. Penso che nonostante la limitatezza e l'arcaicità dei miei mezzi si noti chiaramente, notate bene signori, notate bene, carrelli e balestre. Allora, visto che certa gente non è in grado di ragionare o di fare due più due, detto oh, anche lo Sherman aveva la sospensione a carrelli, quindi anche lo Sherman aveva le sospensioni a balestre. Ve lo dico io cosa ci aveva lo Sherman come sospensione. Lo Sherman come sospensioni era nato con le sospensioni il Grant e lo Sherman, l'M3 e l'M4, erano nati con le cosiddette sospensioni VVSS, ovvero sospensioni a molloni ammortizzatori verticali con molle a cartoccio verticali. Che cos'è una molla a cartoccio verticale? Questa, allora scusate c'è un po' di ruggine ma vi spiego, questa è la molla delle forbici che noi in campagna usiamo per raccogliere le viti. È una molla laminare a cartoccio verticale, notate che fa questo lavoro qui, ok? Si nota? Si nota? Lo vedete il lavoro della molla a cartoccio verticale. Nel carrello dello Sherman, non ve lo faccio vedere perché tanto lo conoscete e se non lo conoscete guardate su Google, grazie, c'erano presenti due molloni ovviamente più grandi di questo tipo che effettuavano un lavoro così in compressione ed estensione, ok? Molle a cartoccio laminare di questo tipo, molle verticali a cartoccio che lavoravano a questa maniera, ok? E due di questi molloni per ogni carrello fornivano l'effetto sospensione e di ammortizzazione. Un sistema economico, un sistema abbastanza efficace, un sistema che garantiva buone prestazioni, anche se erano prestazioni tutto sommato abbastanza inferiori rispetto a quelle dei carri con il moderno treno, con il ben più moderno treno di rotolamento di tipo Cristi, ovvero sia con ruote portanti di grande diametro e sospensioni o a barra di torsione o a mollone verticale. Un esempio classico è il vecchio carro russo, il vecchio carro sovietico BT-5, notate, il treno di rotolamento Cristi, solitamente con la sospensione o a barre di torsione o con i normali molloni verticali, così, solitamente di tipo ferroviario, che lavoravano in compressione a questa maniera, ok? Questa è una molla elicoidale, una normalissima molla elicoidale. I carri di rotolamento, ad esempio il T-34 o ad esempio anche il BT-5 o svariati altri carri, per esempio i carri inglesi, avevano i normali molloni elicoidali. I tedeschi usavano il sistema sempre con le ruote intervallate di grande diametro, però a barra di torsione. Per i loro carri armati più vecchi invece utilizzavano ancora il vecchissimo, ma tutto sommato all'epoca ancora abbastanza efficace, sistema a balestre o a semi balestre. Ecco un esempio, questo è un Panzer II, notate le sospensioni con le semi balestre, ruote portanti, sospensioni con le semi balestre. Insomma, un'altra cosa, anche se usavano le balestre, è un sistema decisamente meno arcaico rispetto al nostro treno di rotolamento per i carri M o i carri P. E, ripeto, i carri con il treno di rotolamento Christi, eccone qua un altro clamoroso esempio, il carro armato cieco, l'LT-38, il Panzer 38T, il mezzo da cui fu derivato lo Hetzer, anche questo, treno di rotolamento di tipo Christi, con i molloni verticali di tipo ferroviario che lavoravano a questa maniera. Spero che abbiate capito bene quello che voglio dire. Mentre una particolarità della produzione di carri armati italiani, se il P-40 era un carro fantomatico, ancora più fantomatico fu il famoso carrocelere Sariano, una sorta di ectoplasma. Eccolo qua, questo, il carrocelere Sariano, che solo esteriormente sembra avere un treno di rotolamento di tipo Christi, ma che in realtà, al posto dei molloni elicoidali verticali come questo, eccolo, montava, lo sapete che cosa? Le molle a cartoccio. Che cos'è una molla a cartoccio? Beh, una molla a cartoccio è una molla tipo questa che lavora così, ok? Notate? Questa è una molletta. Quando mi sono fatto male anni fa al polso, ho dovuto fare fisioterapia e usavo questa mollettina. Una molla a cartoccio è questa, più o meno, si vede. E il carrocelere Sariano, eccone un'altra immagine, eccolo qui, montava questo tipo di molle particolari che ne determinò, insieme ai problemi di frenatura, né ne determinò il sostanziale fallimento. Allora, io vi dico soltanto una cosa. Qualcuno mi sa dire nel boghi delle sospensioni dello Sherman dove cavolo stanno le balestre? Non ci sono balestre nel treno di sospensioni, nel treno di rotolamento dello Sherman. C'è questo tipo di molla, la molla elicoidale a cartoccio, molle laminari a cartoccio, eccole qua, verticali, piazzate così, che garantivano un efficace effetto ammortizzante molto migliore rispetto a quello delle nostre arcaiche balestre o delle balestre tedesche. Perché? Perché gli americani avevano sicuramente una tecnologia metallurgica superiore alla nostra e superiore a quella tedesca e russa che consentiva di sfruttare la loro esperienza nella costruzione di acciai speciali. Queste sono le molle dello Sherman. Lo Sherman funziona con questi molloni qui. Poi dopo, quando sono state montate le HVSS, che avevano la molla orizzontale, che lavorava così. Ma questo a certa gente non entra in testa. Insomma, signori, ve la faccio rapidissima. Smettetela di dire cazzate. Informatevi prima. Google c'è apposta, Wikipedia c'è apposta, i libri ci sono apposta, le riviste ci sono apposta. Cosa cavolo vi costa informarvi prima di dire stupidate su queste cose qui? E poi, insomma, i personaggi sono i soliti. Il signor Alessandro Bellante, la signora Marta Gaviglio, tutti riconducibili bene o male alla solita zona, tra virgolette. Perché tu delidi i prodotti italiani, perché tu fai fare la figura del troglodita all'ingegner Rosini. Non è colpa mia se l'ingegner Rosini non si era aggiornato. O per meglio dire, grazie alla politica di chiusura ed autarchia dell'Italia fascista, non poté aggiornarsi. Perché Rosini magari avrebbe anche voluto aggiornarsi. Tentò di aggiornarsi, ad esempio, il treno di rotolamento del carro sariano con le molle a cartoccio. Ok? Ma, 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 cari signori, il carro sariano ne furono costruiti due prototipi che non funzionarono mai. Va bene? E del P2640 sapete bene come andò a finire. Io voglio solo sapere una cosa, ma non vi vergognate un po' di voler fare queste brutte figure. Accusate me, Vlad, Peter di essere i tre dell'Ave Maria, di essere sfigati, di essere fanatici, di essere montati, presuntuosi. Ci accusate di ogni nequizia e torpitudine. Dite che Vlad è un disadattato, Peter è un nerd, io sono uno sfigato che si è accodato a loro. Ma, gente, c'è, ma ci siete, ci fate, ci credete o ci riuscite? Cioè, allora, io dico semplicemente questo, ma possibile che avete proprio voglia di fare la figura degli ignoranti? Io non so cosa dirvi, tutto qua. Comunque, cari signori, io posso dire una parola sola. Parcale! Ehm, vabbè. Per il resto, fate un po' come vi pare, credete un po' come vi pare. Io e le molle a cartoccio delle sospensioni WWS dello Sherman vi salutiamo, vi auguriamo buona giornata e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Soprattutto commentate qua sotto, commentate, commentate, commentate. e soprattutto ciao! Abbiate pazienza, veramente. Non potevo farne meno. Vi ringrazio ancora. Insomma, commentate, gente. Più di questo mi sa che non si può fare.